buonasera buonasera a tutti aspetto che vi collegate così facciamo quattro chiacchiere veloci prima di cena aspetto che vi collegate così parliamo di un paio di temi che sono importanti qualche minuto proprio prima di cena così da condividere un po quanto successo durante questi giorni comunque quello che sta succedendo qui in in sicilia e non solo facciamo questa questa breve chiacchierata anche perché c'è iniziata la settimana siamo a lunedì intanto ciao alessandro e ci vediamo domani e allora in questi giorni abbiamo parlato di sanità la sanità è al centro di tutte le nostre discussioni siamo in piena pandemia nel frattempo buonasera a carlo siamo in piena pandemia e si parla di sanità sanità vi ho detto più volte che questa pandemia sta facendo emergere tutti i nodi sta facendo arrivare tutti i nodi al pettine della sanità della sanità pubblica sanità pubblica tanto ciao sebastiano buonasera lucia sanità pubblica che negli anni e lo stiamo vedendo negli anni è stata completamente devastata devastata dai politici che hanno utilizzato la sanità come una sorta di bancomat elettorale negli ultimi vent'anni la sanità pubblica è stata completamente devastata a fronte cioè per per privilegiare una sanità privata quindi da un lato si è messa da parte si è completamente devastata la sanità pubblica dall'altro lato la politica ha come dire premiato la sanità privata però questa sera vi voglio parlare di un'eccellenza perché esistono le eccellenze all'interno della sanità pubblica le eccellenze all'interno della sanità pubblica esistono e sono fatti di medici infermieri e operatori sanitari questa sera vi voglio parlare e fare un grosso complimento alla dottoressa territo e al dottore di martino dottoressa territo che è stata premiata con un premio nazionale con un premio nazionale e dottoressa territo e dottore di martino che lavorano all'interno della breast unit che è un'operata una unità operativa per la prevenzione e per la cura del tumore a seno e pensate questa equip questa equip lavora in un ospedale di frontiera in un ospedale di periferia del mio territorio in questo caso perché voi sapete benissimo che gli ospedali e tutta la sanità pubblica è stata completamente come dire messa messa da parte da quella politica soprattutto gli ospedali di frontiera soprattutto gli ospedali periferici e hanno accentrato negli ospedali delle città metropolitane o negli ospedali che sono più comunque come dire più centrali rispetto rispetto ad altri ebbene questa dottoressa a cui vanno i miei più grossi complimenti è stata premiata con un premio nazionale pensate una dottoressa che ha studiato all'estero si è formata e dopo è venuta nel proprio è venuta nel suo territorio a spendere a come dire a lavorare all'interno di un ospedale del suo territorio quindi si è formata all'estero si è formata all'estero e poi è venuta a lavorare qui in un ospedale del territorio questo per dirvi che cosa questo per dirvi che le eccellenze nella sanità pubblica ci possono essere possono esistere le eccellenze nella sanità pubblica quando noi mettiamo il personale quando noi diamo la possibilità a medici infermieri operatori sanitari di avere un contratto a tempo indeterminato di lavoro perché di questo si tratta negli anni non hanno realizzato i contratti a tempo indeterminato ai medici agli infermieri agli operatori sanitari perché se negli anni si fosse investito sulla sanità pubblica ma sulle persone perché sono le persone che fanno la sanità pubblica sono le persone sono i medici sono gli infermieri sono gli operatori sanitari che fanno la sanità pubblica e invece no polemica negli ultimi giorni avete visto che c'è stato un audio di un direttore generale che diceva ai manager degli aspe in sicilia forza caricate posti letto caricate i posti letto caricate i posti di terapia intensiva perché altrimenti qui ci colorano di aranciono di rosso e non di giallo ma secondo voi sono i posti di terapia intensiva a salvare le vite delle persone sono i soli posti letto sono i macchinari a salvare le vite delle persone sono i ventilatori polmonari a salvare le vite delle persone no ma sono i medici gli infermieri gli operatori sanitari perché i ventilatori polmonari così come le terapie intensive così come i posti letto funzionano se ci sono i medici competenti se ci sono gli infermieri se ci sono gli operatori sanitari che sono lì nei reparti a cercare di salvare vite e va il mio più grosso ringraziamento a tutti quei medici infermieri operatori sanitari che in questo momento sono in prima linea e che ancora aspettano e che ancora aspettano le mille euro di bonus che doveva dare questo governo regionale questo governo regionale doveva dare agli eroi del covid così li hanno chiamati agli eroi del covid doveva dare i mille euro di bonus mille euro di bonus che ancora non sono stati erogati mille euro di bonus che sono stati previsti in finanziaria ma che ancora non sono stati erogati da questo governo regionale e allora noi la scorsa settimana abbiamo presentato una mozione di sfiducia all'assessore che è stata respinta è stata respinta dal centrodestra unito e dai suoi alleati perché oramai come dire sono in tantissimi che come dire no cercano di sostenere questo governo musumeci che fa acqua da tutte le parti perché noi abbiamo detto più volte guardate che non sono i posti letto guardate che non sono i macchinari che fanno la differenza all'interno degli ospedali per salvare le vite ma sono i medici sono gli infermieri sono gli operatori sanitari che in questo momento mancano all'interno dei nostri ospedali c'è una carenza immane una carenza che deriva da anni e anni in cui ripeto gli ospedali la sanità non solo gli ospedali ma anche la medicina territoriale è stata completamente distrutta distrutta da una politica da una politica che ha pensato solo ed esclusivamente ad avvantaggiare ad avvantaggiare la sanità privata la sanità privata e badate bene quella stessa politica quegli stessi deputati regionali che da vent'anni che da vent'anni fanno della sanità quello che vogliono sono gli stessi deputati regionali che si sono aumentati la pensione la buona uscita in piena pandemia io questa cosa ve la ricordo sempre ve la ricordo sempre questa cosa perché è uno scandalo tutto siciliano i deputati regionali dell'assemblea regionale siciliana si sono aumentati la pensione e la buona uscita in piena pandemia quanti cittadini in questa fase così critica in questa fase di crisi economica possono permettersi di aumentarsi la pensione e di aumentarsi la buona uscita e perché ogni qualvolta io ve lo ricordo ogni volta che faccio una diretta o comunque ve lo ricordo anche tramite un post della pagina facebook io ve lo ricordo perché questa cosa può essere ancora cancellata noi abbiamo presentato un disegno di legge con i colleghi del movimento 5 stelle in assemblea regionale siciliana per fermare questo scempio per cancellare questo aumento di pensione aumento di buona uscita che si sono fatti i deputati della regione siciliana e a cui il movimento 5 stelle ovviamente ha detto no perché noi abbiamo scelto di non aumentarci la pensione e di non aumentarci la buona uscita e siamo gli stessi che restituiamo puntualmente mensilmente parte del nostro emolumento parte del nostro stipendio lo restituiamo ai cittadini lo restituiamo alla collettività e abbiamo detto di no non abbiamo firmato l'aumento della buona uscita e l'aumento della pensione perché non ci sembrava corretto nei confronti di tutti i cittadini non solo siciliani ma nei confronti tutti i cittadini italiani che stanno vivendo una crisi economica e una crisi sanitaria mai vista prima e allora io al solito vi invito a firmare a firmare la petizione perché stiamo raccogliendo man mano le vostre firme il vostro supporto per cercare di portare avanti quel disegno di legge che abbiamo presentato e che deve essere il prima possibile calendarizzato in aula per cancellare questo privilegio perché è un privilegio è un privilegio il fatto di aumentarsi la pensione la buona uscita in piena pandemia e ripeto nel frattempo che c'è questo governo regionale che vi dice che va tutto bene ci sono ci possono essere stati degli errori però la sanità regionale sta tenendo ma dico io ci entro dentro gli ospedali e vedo medici infermieri operatori sanitari che sono allo stremo che fanno turni massacranti ma non perché manca il postoletto o perché manca il macchinario perché manca il personale gli ospedali sono carenti di personale tutti i reparti sono in grossissima difficoltà perché manca il personale ma anche il personale mancano i medici negli anni non sono stati fatti i concorsi negli anni non sono stati fatti i concorsi e i contratti che sono stati proposti negli anni ai medici agli infermeri sono stati contratti a tempo determinato e non a tempo indeterminato quindi è normale che poi un medico un infermiere un operatore sanitario magari che so anziché scegliere un ospedale periferico andava in un'altra regione andava addirittura fuori dall'italia perché tra un contratto a tempo indeterminato e un contratto a tempo determinato si sceglie la sicurezza si sceglie la stabilità anche per la propria famiglia e quindi noi negli anni abbiamo perso medici abbiamo perso infermieri abbiamo perso anestesisti che sono andati via non solo dalla sicilia ma sono andati via anche dall'italia e allora dobbiamo cercare di comprendere proprio in questa pandemia quanto sia importante la sanità pubblica la sanità pubblica che si rivolge a tutti i cittadini dal povero al ricco la sanità pubblica si rivolge a tutti i cittadini e dobbiamo fare in modo che ritorni a funzionare perché la sanità pubblica italiana era un modello era un modello negli anni passati era un modello che ci invidiavano in tutto il mondo e deve ritornare ad essere un modello ma per ritornare ad essere un modello bisogna come dire eliminare tutti i soldi che vengono buttati negli sprechi all'interno della sanità che spesso vengono utilizzati per privilegiare privilegiare le cliniche private anziché quelle anziché gli ospedali pubblici devono essere utilizzate per potenziare la medicina territoriale la medicina territoriale perché deve funzionare la medicina territoriale il medico di famiglia il medico di famiglia e allora nel frattempo che la politica negli anni ha completamente distrutto la sanità pubblica e qui non c'è destra o sinistra attenzione a tutti i partiti indistintamente l'hanno completamente devastata dalla destra alla sinistra tutti i partiti che sono andati al potere hanno completamente devastato la sanità e che cosa succede che gli stessi partiti gli stessi politici regionali magari qualcuno non è stato eletto qualcun altro è stato rieletto perché noi abbiamo deputati regionali di altri partiti che hanno fatto 3 4 5 legislature addirittura che sono dentro il parlamento regionale da 20 anni chi da 10 chi da 15 quegli stessi politici che hanno completamente distrutto la sanità pubblica oggi in piena pandemia a fine ottobre dovevano fare questa scelta si sono aumentati pensione e buon'uscita si sono aumentati pensione e buon'uscita allora io l'appello che vi faccio e ve lo faccio anche stasera così vi lascio andiamo a cenare è quello di firmare la petizione la trovate all'interno del del post del testo del post che ho fatto firmate la petizione ha già raggiunto quasi 4000 firme l'abbiamo aperta qualche giorno fa proprio per dare supporto per far capire ai politici di vecchia data e politici della vecchia politica che non è giusto aumentarsi la pensione è uno scandalo aumentarsi la pensione e la buon'uscita proprio in questo periodo così difficile con questo vi do un grosso abbraccio un saluto e domani sarò a palermo avremo aule commissione al solito vi aggiornerò punto per punto su quello che succede succederà all'interno dell'assemblea regionale siciliana un abbraccio una buona serata e buona cena no 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 no